Ciao ragazzi, benvenuti ancora in un nuovissimo video di Brazzo Crew e oggi siamo qui per la nostra tredicesima località dove si trova la nostra piantina malefica, il peyote. E siamo qui sempre con Franklin, perché è lui che devi trovare tutti i 27. Allora, esattamente mi trovo in questo punto della mappa, ok? Scritto? Presa punti? Allora, come vedete qui c'è una strada. Io sono atterrato con il mio elicottero. E il frutto malefico, eccolo qua. Eccolo. Vediamo un po'. Che animali diventiamo oggi? Oh, la fattanza. Oh, 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 che animale diventiamo? Che cos'è? Una volpe? No, una volpe, un lupo. Ma che cazzo dico la volpe? Ma non c'è nessuno. Un po' se fa colpe, un lupo, aspetta. Non c'è va, lo fai? Non c'è qualcuno, qualche turista. Oddio, chi è che strilla? Dove? Oddio, gente, c'è. Ma chi è venuto? Ma chi è venuto? Ma chi è venuto a mozzicare? Ma è venuto dai calci questo? E questo è vestito proprio da skater? No, regà. Questo è vestito da skater. Ma che figata pazzesca è. Ti giuro che se mettono lo skate... Ti mostro io al culo. Ancora. Non fa niente, sto coso. Ma chi è? Ma chi è? Ma sei un attacchi brutto. Comunque, ragazzi, questo è stato il video di oggi. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Condividetelo su Facebook, mi aiutate tantissimo nella divulgazione. E se stai vedendo questo video e non sei ancora iscritto al canale, fallo pure adesso, così come posterò altri video come questo, sarai subito aggiornato. Installa la mia estensione per Google, Chrome e Firefox per non perderti neanche un video. E con questo è tutto, ragazzi. Vi mando un grande, grandissimo abbraccio e al prossimo video. Ciao! Lo skater. Ciao! 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 Grazie.